Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, docente ed esperto certificato in materia di didattica digitale. Questo videocorso mostra come accedono alunni e famiglie con semplicità alla piattaforma Hub Fondazione Franchi, che ricordo, perché questo videocorso è destinato tanto ai colleghi docenti quanto alle famiglie stesse, che la piattaforma Hub è perfettamente normata dal punto di vista del GDPR, Regolamento Europeo per la Privacy, articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale CAD, e anche alla luce della sentenza Schrems 2 del luglio 2020, Commissione Europea. È una piattaforma che non profila e che ha a cuore i dati degli utilizzatori, tutti, docenti e discenti, non trattenendoli in alcuna maniera, per finalità commerciali o altro, ma per finalità squisitamente legate allo svolgimento della lezione. Ora, l'alunno accede tramite un link e con, a scelta, uno dei due browser fortemente consigliati perché garantiscono la piena compatibilità e sono Google Chrome e Mozilla Firefox. Il link viene reperito dalle famiglie sul registro elettronico o comunicato dai docenti tramite altro mezzo idoneo. A questo punto, che cosa accade? Io, famiglia, posso cliccare o toccare direttamente il link oppure, mi permetto di consigliarlo, vado ad aprire, ad avviare, su qualsiasi dispositivo, perché AB è multipiattaforma, cioè utilizzabile ovunque, il mio browser Chrome o Firefox. Vado in alto nella barra degli indirizzi, quella più in alto che state osservando, ed incollo il link ricevuto dal mio docente. Non appena avrò premuto invio, verrò riportato a questa finestra, dove, come potete osservare, per ulteriore privacy, io posso andare ad inserire, io come alunno, anche solo il nome iniziale del cognome, no a pseudonimi o altro. Consiglio per una gestione ottimale della classe, nome e cognome o, eventualmente, ciò che io sto facendo, nome, iniziale, punto. E poi si clicca partecipa. Ma attenzione, ecco la riprova. La sicurezza in hub è piena, perché il suo motore open source, quindi a base di software libero, fa sì che se il docente non ha prima avviato la stanza, cioè la sua lezione, l'alunno da solo non possa entrare. A questo punto, attenzione bene, con un altro browser, assolutamente non avrei potuto farlo dal primo browser. Io, come docente, entro nella mia classe, ho preso a campione una classe, in questo caso dell'Istituto Comprensivo Cavour, vado a digitare il mio nome come docente, avvio la mia classe, questa procedura la trovate nel videocorso dedicato ai docenti, sempre qui sul mio canale YouTube. Io adesso, docente, clicco su microfono e vado rapidamente questa procedura, clicco su consenti, ho un brevissimo test audio automatico, la finestra mi porterà in automatico, appunto, a poter validare questa mia procedura. Consiglio, tra l'altro, anche ad alunni e famiglie, dove è possibile, di utilizzare un computer per la frequenza della lezione sincrona, altrimenti un tablet. Clicco sul pollice verde e vado subito a silenziare il microfono, altrimenti mi sentite con numerose moltiplicazioni della mia voce. Ora che ho aperto la mia stanza docente, vi mostro, ritornando su Chrome, che se clicco partecipa adesso, ora accedo, ma come vedete in questo caso, è comunque necessaria una validazione dell'insegnante, doppio controllo. Clicco su utenti in attesa e vado ad approvare Andrea C. con un clic su Accept. A questo punto vi mostro che in automatico si ricarica la scheda del mio browser ed eccoci. Vediamo che il prof, icona quadrata, il maestro è già in classe. Io clicco sul pulsante microfono, io alunno, ve lo ricordo, e io alunno ho l'icona rotonda. E non debbo avere questo piccolo circoletto bianco che ho quando mi sto allineando, ma avrò correttamente una icona rossa con il microfono sbarrato, verde se il microfono sarà acceso. Clicco sul pollice verde, silenzio il microfono perché altrimenti c'è già il videocorso in essere, quindi avreste sentito quell'azione di disturbo. Sono pronto per la mia lezione e ora ne posso fruire. Io alunno, io famiglia che sto seguendo mio figlio, ho una grande facilità di utilizzo perché io ho solo il pulsante per attivare o disattivare il mio microfono e il pulsante per attivare o disattivare la mia webcam quando è il docente a chiederlo. Quindi sicurezza e tranquillità. Il docente, come possiamo vedere e mi sono ora posizionato su Firefox, ha ovviamente a disposizione la chat pubblica che ho anch'io come alunno, ma io non posso scrivere ai miei compagni, solo al mio docente. Inoltre, se io docente vado a selezionare la penna e a scrivere sostanzialmente ciao, e vi prego di scusarmi perché da buon mancino sto operando con il mouse azionato con la destra, ecco, mi sono spostato su Chrome, che ho la lavagna già pronta, integrata nella piattaforma, che mi consente di fruire in digitale della stessa identica lezione che svolgerei in presenza dal vero. Questa è la didattica digitale integrata, francamente, in uno dei suoi scenari migliori. Ancora un saluto da Andrea Cartotto e buona lezione a tutti.